BELLA A TUTTI RAGAZI 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 PERFETTO BELLA A TUTTI RAGAZI BELLA A TUTTI RAGAZI Vediamo che c'è qua Ah no apri lentamente Beh questo non mi interessa Allora allora sul retro c'è una recensione di legno danneggiata Faccia rompere chiave da porta perfetto Però sul retro mi dice Quindi vediamo un attimino Questa è davanti Allora il retro sta qua Ok perfetto dobbiamo andare qua ragazzi Ok ecco qua buongiorno 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 Questo è bloccato Qui c'è il tv da rompere Ok a casa non c'è nessuno Apriamo lentamente Ci entriamo dentro Buongiorno Ok oggetti grandi Tutorial Per rubare un oggetto di grande dimensioni Stampate c'è da mettere nel bagaglio alla macchina e va a casa Oh cazzo l'ho lanciato proprio così Vabbè ma noi Scusa perché questo qua non posso averlo comprato adesso in questo momento Chiede la porta nascosta nel cassetto Però secondo me qualche altra cosa potremmo rubarcela raga Salve Perfetto A quanto bisogna proprio far tutto raga C'è guarda che roba Buongiorno Ruba la vecchia tv che mi carica il bagaglio dell'auto L'ho caricata Ok ragazzi Ce ne andiamo a casuccia Abbiamo rubato la Ok ragazzi ce ne andiamo a casuccia Abbiamo rubato la La tv Vediamo un pochettino Punti abilità S Sei di livello Ricorda Ok perfetto Vecchia tv Chiudiamo Perfetto Salve Vedo che è il mio schermo Vai su Black Bay Black Bay Vediamo un pochettino Vediamo un pochettino ragazzi Andiamo su Black Bay Ok perfetto Allora oggetti richiesti mancanti Statuetta a forma di lacrima Calice d'oro Un vaso Black and White Ah vedi che robetta raga Ricambi per auto Elettronica Vendiamo Perfetto Grande grande abbiamo fatto Fatta i cazzi di due Perfetto Qualche piccola pro extra L'hanno messo a un posto per te Quello con i piatti Perfetto Rompigli i piatti Vabbè Accettiamo Accettiamo ragazzi Con i piedi di porco Accettiamo questo lavoro Ci andiamo a fare anche questo qua Quindi ce ne vogliamo Rompigli i piatti Al numero 110 Bene Ok andiamoci qua ragazzi Dobbiamo andare al 110 Quindi siamo pronti Visto quello la Era il 109 Lì anche c'è il 110 Dobbiamo rompere i piatti Con il piedi di porco Ma guarda che cacchierose Sono inventati Allora il 110 dove sta Vediamo un pochettino Quindi sicuramente È qualcosa da ste parti Allora noi Visto che noi siamo Proprio così agab Lasciamo la macchina Dove cazzo ci pare Ok Perfetto Stiamo entrando Dobbiamo rompere i piatti Ragazzi Ma dobbiamo scassare Mentre la porta qua No non mi ci fa andare Non è vero Mi ci fa andare Ah Il grimaldello Qui serve Qui serve Un grimaldello Però qua noi Mi sa che dobbiamo Per forza Per forza Ok raga Buon attimo eh Questo Ah inventario pieno Questa me la posso rubare però Mi do rompi i piatti Il mondo cazzo L'ho lavato qua Per rompi i piatti Buoni Qua ragazzi La situazione Si fa abbastanza difficile Buonasera Buonasera Ho capito Come ne imparo le abilità però Dove me ne fa imparare le abilità Impara ad aprire le serrature Quello l'ho capito Ok Dobbiamo imparare ragazzi Ad aprire le serrature Allora intanto vediamo qua una cosa Abilità possiamo imparare Si Apre le serrature Perfetto ragazzi Ci siamo imparati Ci siamo imparati Ci siamo imparati Ok Perfetto Perfetto Dobbiamo andarcene a casa ragazzi Così andiamo ad acquistare Attrezzi per ladri Un bel grimandello E siamo a posto raga Quindi tanta robetta Ci stiamo imparando Allora piano piano ragazzi Su sto gioco diventeremo Dei ladri professionisti Verso Lupen proprio Dobbiamo diventare lupen raga Andiamoci a casa ragazzi Poi andiamo anche al banco di peigni Dobbiamo vendere un pochettino di oggetti Ma momentaneamente Facciamo questo qua Quindi perfetto Non siamo andati molto molto bene Andiamo qua sopra E acquistiamo un bel grimandello Quindi Dobbiamo andare Attrezzi per ladri Grimandello Semplice Eccolo qua Per 20 Perfetto Acquistato Ottimo raga Vediamo Vediamo un po' che ci dice Prima di cacciartene qua Prova su un trucchetto Sistenzione Io non ho lasciato Nel garage Ok Facciamo questo qua ragazzi E possiamo Concludere poi La nostra sessione Di ladri Allora che mi dava Semplice Ruota con D Ok Ah Bene Se stavo bravo con quella vecchia tv Nella casa vuota Per un vero lavoro Devi prima dare un'occhiata All'opposto 117 del mattino E serva Perfetto Signori Allora niente Che dire Questo video è giunto a termine Ovviamente spero Vi sia piaciuto Se vi piace questa serie ragazzi Sul canale Mi raccomando Fatemi sapere come un bel progetto in su Vi chiedo gentilmente di arrivare almeno A 8000 mi piace Quindi mi raccomando ragazzi Supportate al massimo Noi ci vediamo con un prossimo video Spoglice tantissimi Cliccate qua Fiammi ragazzi Per vedere altri due video 70 volte ancora Non l'avete visto e cliccate la campanella Per non perdere nessun video Noi ci vediamo In un prossimo parlamento Ragazzi Siamo per andare verso La via di Lupin Al prossimo video Ciao signori